Ecolalie differite, cioè quando un bambino riporta pezzi di frasi, canzoni, cartoni animati, me l'avete chiesto in tanti ultimamente. Le ecolalie differite sono comunicazione a tutti gli effetti, si chiama processamento linguistico gestalt. Purtroppo al giorno d'oggi invece ancora spesso le ecolalie vengono erroneamente stoppate, punite, ridirezionate, mentre invece è possibile aiutare il bambino a trasformare le ecolalie che comunque ha una sua modalità comunicativa in linguaggio funzionale. Immaginate la tragedia nel bloccare la comunicazione di un bambino che già è in difficoltà comunicativa. Vi riporto quindi un estratto di una diretta che ho fatto sulle ecolalie differite e chi è interessato può andare a guardare direttamente il video integrale sul mio canale YouTube. Un saluto. Dicevamo le ecolalie differite sono che si chiama processamento linguistico gestalt. È stato studiato la prima volta negli Stati Uniti negli anni 70 ed è nell'ultimo, diciamo, dagli anni 90 in poi che questo si applica proprio a livello logopedico nel trattamento delle ecolalie differite. Quindi il processamento linguistico gestalt che cos'è? È una modalità di acquisizione del linguaggio a tutti gli effetti. Ci sono due modalità principali, una che è quella che noi tutti conosciamo che è la modalità analitica, salve Maria, che è la modalità analitica, cioè un apprendimento per unità singole. Quindi che cosa fa il bambino? Imparano all'inizio delle paroline, mamma, palla, pappa e poi comincia piano piano a combinarle. Mamma, pappa, mamma dammi, dammi palla. Queste micro frasi diventano poi sempre più complesse finché non si arriva proprio a una strutturazione completa del linguaggio e questa è la modalità analitica conosciuta al più. La modalità gestalt è invece diversa, è molto più diffusa di quanto non si creda e prevede un apprendimento per stringhe, per stringhe linguistiche, che vuol dire che il bambino non apprende paroline singole ma apprende all'inizio, apprende e ripete, memorizza interi pezzi di frase cui associa un significato. Quindi il significato che il bambino associa a quella stringa per il bambino è un'unità di senso, unica, come se fosse una parola, però è una frase, ok? Quindi che cosa fa il bambino? Associa il significato di quella frase o a qualcosa di effettivamente pertinente che era successo là per là o ancora più difficile a un'emozione che lui ha vissuto in quel momento. Quindi a volte è facile ricondurre al significato della frase, conoscendo soprattutto il background dei bambini. Vi faccio un esempio tipico proprio da tanti bambini che vengono da me, amanti di Bing, il cartone Bing, che quando si casca un giocattolo, si rompe qualcosa, fanno Oh, Nasuta! O non Nasuta. O non Nasuta è un pezzo di Bing in cui la patata con cui Bing stava giocando si rompe. Quindi che cosa succede? Il bambino guarda il cartone, associa a questa stringa comunicativa il concetto di si è rotto e quando qualcosa si rompe, riporta questa stringa. Oh no, Nasuta! Un altro grande classico è O Tudol! Quindi quando i bambini hanno bisogno di aiuto, perché O Tudol, questa veramente me la sento tante tante volte, O Tudol è l'aiutante di Topolino nel cartone animato di Mickey Mouse che viene chiamato tutte le volte che c'è bisogno di aiuto. Certe volte invece il bambino, come dicevamo, associa a un pezzo di un film, di un libro, di una canzone, di quello che è, l'emozione che viveva in quel momento e allora in quel caso è decisamente più difficile ricostruire. Vi faccio un altro esempio che mi è capitato realmente di un libro che si era spaventato guardando Toy Story ed aveva associato a la famosa frase verso l'infinito e oltre il senso di ho paura e quindi tutte le volte che aveva paura diceva verso l'infinito e oltre, verso l'infinito e oltre. Ovviamente l'intervento terapeutico, logopedico per quanto riguarda il processamento linguistico gestalt è lungo e complesso. Quello che io vi illustro questa sera è il primo approccio, quello che possono fare i genitori per supportare i loro bambini che hanno questo tipo di processamento. È già una cosa che fatta a casa di solito nella mia esperienza porta dei bei risultati e quindi io vi dico questo, non è certo un corso sul, nella mia intervento di questa sera, un corso completo sul trattamento delle colalie differite che vi spiega come a fare, a passare dal livello 1 al livello 6 ovviamente. Quindi qual è l'indicazione che viene data? Punto primo ovviamente riconoscere il valore comunicativo dei bambini, ok? Pensate la tragedia del tentare di comunicare, avere dei problemi comunicativi perché ci sono delle limitazioni comunicative, tentare di comunicare con queste stringhe comunicative e venire bloccati o ignoranti o ignorati perché ovviamente senza cattiveria i genitori non sono a conoscenza, non riconoscono. Tante volte in realtà i genitori mi dicono ma io pensavo che, perché io sentivo, cioè perché per me aveva senso quello che lui diceva, però mi veniva detto no, ignora, no? Ok, quindi diciamo che c'è poca consapevolezza un pochino anche in area riabilitativa su questa cosa e sarebbe bello che invece se ne parlasse di più. dicevamo quindi riconoscere il valore comunicativo e tante volte i genitori che vengono in valutazione, in trattamento da me, quando ne parliamo e si rendono conto, no? Quasimede diceva pensiamoci, no? Ah, ok, allora ho capito il senso, no? Come questa mamma che mi diceva, ah, vuole andare in palestra, sta dicendo non correte, si scivola, vuole andare in palestra, adesso la capisco, ok? Quindi in realtà è molto bello sia per il bambino che si vede non ignorato, si vede, non dico necessariamente compreso perché magari non capisci tutto subito, però riconosciuto nel fatto che sta comunicando ed è bello per il genitore che finalmente si apre questa finestra proprio sulla realtà comunicativa del suo bambino. Detto ciò è importantissimo fare proprio un lavoro di detective a tutti gli effetti di analisi delle ecolalie del bambino e di traduzione del senso che le ecolalie hanno. Io consiglio di scriverlo, di fare un piccolo giornale in cui si scrivono le ecolalie, il valore, no? Il significato delle singole ecolalie. Fare che cosa? Quando il bambino fa le ecolalie, ripeterle, ripeterle le ecolalie. Perché? Perché questo innanzitutto riconosce il valore comunicativo delle ecolalie e permette proprio al bambino di entrare in relazione comunicativa, aprire un circolo comunicativo. Subito dopo date un gestalt funzionale. Quindi fornite il modello funzionale che corrisponde a quello che il bambino voleva dire. Quindi se il bambino fa Oh no, Nasuta! Voi fate Oh no, Nasuta! Oh no, si è rotta! Amore! Si è rotta! Mamma ti aiuta! Ok? Quindi, oppure un bambino che fa Oh toodle! Voi ripetete Oh toodle! Aiuto mamma! Aiuto mamma! Si tesoro, arrivo subito ti aiuto, ok?